Salve a tutti, sono Mattia. Per le amiche più intime, Matioski, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a una nuova puntata del Matioski Show. E siamo qui anche quest'oggi per parlare delle ultime notizie dal mondo del cinema e delle serie TV. Lo facciamo in compagnia del signor F. Salve! Salve signor Matioski, salve al pubblico. Io oggi sono adirato, perché praticamente... Sì, non lo so, non ne ha sentito parlare. Praticamente la Miriam Margoles, che sarebbe la professoressa Sprite di Harry Potter, ci ha fatto sapere che ormai la saga è vecchia e dobbiamo crescere. Ah, hai una ragione. Un po' questa cosa, mi ha fatto un po' la... Basta! Basta! Bisogna pensare? Sì, è stato proprio così, basta. Non vi sono cadute le palle. Poi mi ha detto così, e io mi sono sentito un po' tradito. Hai prodotti digitati! Mi sono sentito un po' tradito, perché dico, ma come se... Ma lei è tipo la tizia che, tipo, mentre cambiavo il vaso alle mandragole mi faceva venire una gran sete, perché invece di Sprout da non era Sprite, quindi io avevo un cervello di bambino molto semplice. E tipo, lunedì parte così, un po'... insomma, un po' cinico. Sono film bellissimi, ma sono passati 25 anni. Crescete e leggete Dickens. Niente. Non ho mai detto di non apprezzare la serie, ma penso che sia più per bambini. E se oramai le palle ti sono cresciute... Forse è arrivato il momento di dimenticarsi di andare avanti. cercare qualcosa di nuovo. Io posso anche capirla da un certo punto di vista. Solo da un certo punto, dagli altri no. Vabbè. È un lunedì particolare comunque. Sto dicendo che sia roba brutta, sta dicendo di espandere la nostra conoscenza, anche trovando... Qualcosa... Nuovi classici da scoprire. Vabbè, grazie signore F. Gli ho mandato dieci pacchi di mandrago. Lui sape proprio appena le apre, poi vediamo che succede. Grazie per avermi reso idotto di questa cosa. La mia giornata è appena migliorata. Ah, ma noi iniziamo... È talmente ricca come puntata che iniziamo subito con la rubrica del box office. E già, anche oggi, come ogni lunedì, andremo a dare un'occhiata alla top 5 degli incassi statunitensi, dando però anche uno sguardo al risultato globale, per capire se i film che si trovano in sala in questo momento stanno ottenendo riscontro da parte del pubblico oppure se invece sono bellamente ignorati all'interno di Stale Vuote, dove si reca solo Miriam Margolis. Detto questo, diamo proprio una bella occhiata approfondita. Settimana interessante. Al quinto posto troviamo, ormai siamo affezionati a questa casa di produzione, la Angel Studios, troviamo Cabrini, film che parla di una missionaria italiana, peraltro, interpretata da un'attrice italiana non di prima fascia, adesso non ricordo il nome, ma mi hanno detto che nel cast ci sono attori interessanti, ad esempio John Leafgoe, che si trova lì, non si è capito bene il perché. Fatto sta che si tratta di una produzione, c'è anche Virginia Bocelli, lo leggo adesso, nel ruolo di Aria, forse Aria Stark, approfondiremo. Beh, comunque hanno investito parecchi soldi, 50 milioni. Non so quali siano le prospettive di espansione internazionale. Forse in Italia arriverà, visto che si tratta di un personaggio a noi affine può essere. Fatto sta che attualmente, dopo due settimane di programmazione, Cabrini è arrivato a quota 13 milioni e 93. Diciamo, non sono neanche 14, sono 13 milioni, punto. È difficile la salita per arrivare al risultato ideale di 150. vero anche che però, come al solito, io qui trovo incassi prettamente statunitensi. E di norma, sì, posso immaginare se vogliamo una distribuzione da noi, però non siamo un mercato così influente. E se seguono la solita condotta, rimarrà lì in America, bello saldo. Al limite in altri territori arriva in streaming, ma probabilmente anche in Italia arriva in streaming. Sensazione. Poi vedremo. Secondo me hanno fatto il passo più lungo della gamba, sta fatto. Forse sperando di ottenere qualche soldo in più nel periodo pasquale. Vediamo questa domenica come si comporta. Ma francamente, mi sembra già bello che cotto. Quarto posto per Imaginary, film horror della Lionsgate con l'orsettino. E attenzione, qui rimpallo una cosa che ha detto oggi Michele Innocenti nel suo video, sempre riguardante il box office. La Blumhouse sta cominciando a toppare sempre più. Night Swim è stato un flop. L'esorcista. Sì, forse è riuscito a fare il per tre, però si aspettavano risultati decisamente più rotondi. Volete vedere che anche il modello produttivo, quello che lanciavamo nella stratosfera dell'horror a basso budget, che tanto incassa comunque, sta iniziando a vacillare? Perché forse non sono risultati completi quelli che vedo, ma io noto innanzitutto che c'è stato, ah, intanto non ve l'ho detto, Cabrini calava del 61%, Imaginary del 44%, quindi c'è già questo calo in America che però non è gravoso. Ma parliamo di cifre risicate e io qui vedo 19 milioni in America, 1 milione 7 nel resto del mondo, che mi sembra pochissimo. Quindi non so se non hanno ancora aggiornato i dati. Fatto sta che pare sia costato 13 milioni, quindi dovrebbe arrivare a 39, fate 40. Io non sono sicuro che ce la faccia. Ma io mi aspetto un aggiornamento, magari nella giornata di oggi, per l'incasso internazionale, perché mi sembra pochissimo. Cioè, proprio non se lo sono cagati di striscio, mi sembra troppo strano. Anche andando a verificare su Box Office Mojo, il risultato è più o meno, oddio, gli danno un milione in più, internazionalmente, ma un milione. Quindi siamo comunque su 21 milioni e otto in totale. E qui vedo che, ad esempio, in Bulgaria ha incassato 27 mila dollari, in Francia 626, e in questi territori è anche uscito da un pezzo. In Francia, data di uscita 6 marzo. Portogallo 7 marzo, 81 mila dollari. Olanda 7 marzo, 194 mila. Regno Unito, 839 mila. Se veramente sono questi risultati, aiuto. E dovrebbero essere questi, perché va bene aggiornarli, ma se un film è uscito dall'8 marzo, o dal 7, sono quelli. Sono quelli. Avevamo una certezza nella vita, una sola ne avevamo. È finita. Insomma. Fatemi controllare la rame in tante. Mi dicono che Night Swim è un successo, non è un flop. Ma ragazzi, 53 milioni, ma il pareggio era 45. Non sono abituati a queste cifre, quelle della Blumhouse. Sono abituati a 80, 90. Sì, la sfangata all'ultimo, come leggo. Io ero rimasto a quando campeggiava nella top 5, che era un disastro. Io non la vedo benissimo. Magari è un caso, magari non sono i progetti giusti. con i prossimi film ritorneranno in alto. Però stiamo affrontando un momento di momentanea crisi. Diciamola, scusatemi anche per la ripetizione. Mettiamola in questi termini. Vedremo se si riprenderanno. Comunque, Imaginary può ancora farcela. Certo, se a livello internazionale il risultato è quello, in realtà non ce la fa più. Sto cercando di proporvi una scena ma non puoi. Però è difficilissima. Vabbè, magari possiamo cominciare ad analizzare la situazione. Terzo posto per Arthur The King. Voi direte che cos'è? È un film avventuroso con protagonista Mark Wahlberg e un cane. Credo tratto da una storia vera. Racconta di questo sportivo che fa gare adventure racing si chiama. Quindi sono gare che comprendono sezioni di corsa, di bici, però in territori abbastanza ostili. Quindi, se vogliamo, da quanto capito, una sorta di gara Ironman ma all'interno di ambientazioni dove bisogna anche rilevare un certo spirito di sopravvivenza da parte dei gareggianti. all'esordio solo in America perché negli altri territori non è uscito, terzo posto in classifica e 7 milioni e mezzo. Il problema è costato abbastanza. 20 milioni. Quindi dovrebbe arrivare a 60. Magari quando otterrà distribuzione internazionale ce la farà con tranquillità oppure dipende tutto dalla promozione. Settimana prossima già si afflush in America. Temo considerando che arriva Ghostbusters che non credo farà tantissimo ma comunque il mercato delle famiglie teoricamente dovrebbe un po' spostarlo. Dovrebbe. La partenza è 7 milioni e mezzo. Settimana prossima quanto farà? 3 milioni? 3,5? Facciamo 3,5? Ha bisogno di tutto il resto del mondo per capire se si tratta di un successo oppure di un floppettone. Non lo so ancora giudicare. 60 milioni non sono tanti però si fa la fine di Imaginary Infatti sono degli strani investimenti comunque. Abbastanza. Chi è che l'ha prodotto? Fatemi vedere. La Lionsgate. Molto strano come investimento boh non so. Sì. Comunque si basa sul libro di saggistica del 2016 Arthur Il Cane che attraversò la giungla per trovare una casa. Mi devo informare. Detto questo in seconda posizione troviamo titoli che contano. Ad esempio Dune Party 2 che cala del 37% quindi cali minimali di settimana in settimana non ha mai raggiunto il calo del 50% fate voi mai e dopo questa è la terza settimana arriva a 494 milioni complessivi aggiungendo anche i risultati internazionali. dunque c'è sempre questa speculazione riguardante Dune io vedo che c'è anche grande interesse da parte del pubblico che mi chiede su Instagram ma quindi successone ma quindi dove arriva innanzitutto come risultato ce lo dice la Warner siamo avanti del 67% rispetto alla traiettoria del primo film quindi sotto questo punto di vista devono sfregarsi le mani. gli analisti fanno sempre le loro previsioni e hanno un po' ritoccato la stima sul lungo termine prima ci dicevano attorno agli 800 adesso scendono leggermente e ci dicono tra i 750 e gli 800 perché è vero che sta andando molto molto bene però da qui in avanti ci si abbassa anche nei mercati più profittevoli io qui vedo che i mercati principali sono quelli della Cina del Regno Unito Germania Francia Australia Corea dove però sta già terminando la sua corsa sta esaurendo il suo effetto intendiamoci di successo si parla bastano 600 milioni arrivasse a 750 hanno fatto più 150 con cui possono finanziare già il terzo film volendo tanto il budget più o meno è quello però l'abbiamo sempre detto non si può ambire ai 900 al miliardo e non è un problema non è assolutamente un problema ad avercene si tratterebbe comunque del primo grande successo del 2024 perché al momento di film che possano ambire a quei risultati non ce ne sono altri per il momento eh lo sottolineo quindi bicchiere non mezzo pieno strabordante semplicemente un bicchiere un po' più piccolo rispetto a quanto spicculavano alcuni che già vedevano il vaso da notte strabordante no è un bicchiere ma di quelli con acqua di fonte comunque già adesso è il primo incasso dell'anno è già adesso con 494 milioni se siete curiosi al secondo posto troviamo già adesso Kung Fu Panda 4 e state fermi in terza posizione Bob Marley Madame Webb è al sesto posto non credo ci rimarrà però è un risultato eclatante bene 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 quindi passiamo al primo posto dove troviamo l'abbiamo già nominato Kung Fu Panda 4 si è trattato di una sfida all'ultimo milione perché Dune ha incassato 29 milioni e 100 Kung Fu Panda 4 30 milioni anche lui cala di pochissimo 48% alla seconda settimana un calo veramente da poco per un film di animazione che di solito attira al pubblico in particolar modo la prima settimana quindi bravo Po per quanto riguarda la traiettoria siamo sostanzialmente in linea con il risultato del primo film che all'esordio incassò 60 milioni Kung Fu Panda 4 settimana scorsa era arrivato a 58 negli Stati Uniti e questa settimana l'abbiamo appena detto Kung Fu Panda 4 arrivato a 30 milioni Kung Fu Panda 1 ne fece 33.6 alla fine della corsa dovrebbe essere un successone fatemi vedere dove si era fermato il primo Kung Fu Panda che rimane attualmente l'incasso più grande della saga ora ve lo dico comunque il budget di Kung Fu Panda 4 è di 85 milioni Kung Fu Panda chiuse con 631 milioni ecco magari non arriva lì ma non ne ha bisogno proprio no se il buongiorno si vede dal mattino forse avremo già un Kung Fu Panda 5 così eh a sensazione a naso non credo che neppure Ghostbusters riuscirà a scardinare il dominio del Panda però adesso ne parliamo chi sarà primo tra sette giorni è una prospettiva interessante dai gli bastano 255 milioni ma ce la fa ce la fa già forse questa settimana a limite limite quella successiva però se continua in linea con il primo film forse lo stiamo anche sottovalutando bene quindi finalmente parliamo di successi ma alle spalle di Kung Fu Panda 2 2 si la chat Kung Fu Panda 4 perché stavo leggendo Kung Fu Panda 2 fece 665 alle spalle di Kung Fu Panda 4 e Dune parte 2 e quello è giusto ci sono filmettini un po' così ma l'avevamo visto anche in Italia marzo non è un mese ricchissimo aspettiamo Po che da noi non è ancora arrivato aspettiamo Godzilla e Kong e i Ghostbusters addirittura ce li cucchiamo in aprile quindi siamo anche svantaggiati rispetto alla controparte americana perché perché signori della distribuzione non ne ho idea l'unica cosa che settimana di Pasqua Kung Fu Panda per massimizzare i profitti ma valeva anche per Ghostbusters politica no forse no signor F la top 5 purtroppo ormai ci ci becchiamo set up 5 un po' strane dove praticamente al terzo posto abbiamo 7 milioni e mezzo e poi partiamo subito con 30 quindi un partito cioè non abbiamo un bel disriverso sì totalmente infatti ti dicevo prima strani investimenti questi 20 milioni per Arthur The King forse c'era qualche intenzione particolare forse c'era uno studio che li ha portati a vedere qualcosa in più di quello che performerà poi vedremo la distribuzione più ampia per Imaginary io boh terrei sotto occhio questo possibile trend in negativo non lo so vediamo un po' mi fa un po' preoccupare perché c'erano per quanto riguarda il box office le sicurezze erano poche tra cui Jason Blum quando arrivava e comunque le cose andavano in un certo modo vediamo tipo per esempio ecco questa è una cosa che va detta Cabrini ha comunque collezionato 13 milioni io non vi dico che i 50 milioni sono davvero il passo più lungo della gamba però intanto questi riescono a racimolare non capire come fanno a tipo a racimolare riescono fra dei chosen fra cose questi fanno uscire film e boh non lo so non riesco a capire il fenomeno devo studiare affezionato devo studiare questo fenomeno incredibile e poi saliamo per di un siamo sempre lì non riesco a sbilanciarmi credo che ormai allora ok gli danno anche gli 800 dovesse andare io non riesco a sbilanciarmi io sono sempre dal arrivate a 600 e poi ok godetevi il Luna Park cioè mi dà quella sensazione lì puoi fare benissimo o ti puoi fermare tranquillamente a 7 o a vabbè 650 direi di no sta andando molto bene il passaparola sta funzionando vediamo alla fine sono contento in generale proprio perché di un apre la stagione cinematografica insieme a Kung Fu Panda fatto ridere che ha detto Madame Web per adesso nella classifica che non è arrivato manco a 100 milioni ancora non c'è gli sta sodando non ci riesce ad arrivare però ti fa capire anche in contraposizione come Ghostbusters invece abbia ricevuto una campagna marketing diciamo un po' più massiccia rispetto a Madame Web hanno fatto almeno qualche quattro trailer li hanno fatti mi sembra quattro ne ho contati dico vediamo fino a che punto ci puntano non so a me sembra comunque ma potrebbe essere un'impressione mia una campagna marketing un po' timidina sì i trailer ci sono le locandine ci sono ma ad esempio non nel cinema che frequento ok ma dobbiamo anche mettere in conto che effettivamente in Italia arriva arriva dopo anche per una sala quindi per spot televisivi lancio corposo trailer su YouTube e sui social bisogna aspettare un minimo questo è vero stavo facendo i conti pensando all'America sì quindi magari da loro ci sarà stato un po' più di 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 hanno partecipato hanno partecipato i let's show c'è già il video di loro che cantano la sigla sì 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 ci stanno provando dai e Kung Fu Panda che come dicevamo già settimana scorsa inaugura l'usato sicuro il ritorno all'usato sicuro per quanto riguarda l'animazione spero bene io non mi ricordavo nemmeno che il primo avesse fatto all'epoca così tanto non me lo ricordavo è quello che ha incassato maggiormente tutti gli altri erano in calo poi sempre cose interessanti sì cioè se comunque gli basta se si ferma a 300 anzi no come non detto il secondo è quello che ha incassato di più però sulla lunga distanza come apertura Kung Fu Panda primo è quello che andò meglio si vede che il passaparola aiutò Kung Fu Panda 2 il terzo finì a 521 quindi è il peggior risultato sempre tra virgolette eh sì comunque prova che il franchise non è che sia morto in realtà cioè se dove io ero più scettico ti dico la verità così sul nulla mi piace Kung Fu Panda ma non eri l'unico non eri assolutamente l'unico io invece lo vedevo abbastanza bene dopo aver sentito il risponso della sala alla visione del trailer si sentiva un certo fomento è il motivo per cui vi dico che Inside Out 2 andrà certo tanto ma infatti è arrivato si è beccato una 80 milioni di budget ma ve l'ho detto dovesse fermarsi anche a 300 ma va bene va più che bene e la Dreamworks vedete la differenza con la Disney tutti e due stanno cercando un po' di respirare la Dreamworks fa tipo un respiro un pochino anche lei perché non è che se vediamo alcune performance dei titoli arrivati anche l'anno scorso insomma va bene leggo già Inside Out 2 non fa più di 700 mazza che delusione mamma mia ma magari nella mia testa c'era un 400 tipo superiamoli 400 tipo vittoria ma magari se incassasse 700 ipoteticamente sarebbe al secondo posto della classifica globale il momento eh da lì a Disney la strada è lunga però commenti che a volte non tengono conto della situazione ma infatti figurati in chat dicono 300 o Kung Fu Panda arriva a 400 facile io devo essere sempre scaramantico ragazzi perché poi arrivano quei momenti anche se io credo che trainerà le festività comunque Kung Fu Panda è 400 lì fa poi se poi se lo chiedi a me io ti dico Kung Fu Panda meglio di Ghostbusters anche secondo me sul niente sulla percezione abbiamo dei dati dall'altra dall'altra niente vediamo cosa succede poi io ti dico che si può anche arrivare a 500 se regge bene se piace se c'è un passaparola positivo poi non è ancora arrivato in tutti i mercati vero anche questo a rotonda i film d'animazione sulla lunga distanza riescono a carburare pensa proprio ad Elemental che scavava 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 dai io i 500 li vedo 600 non lo so forse troppo però il Regno Unito forse non è arrivato ancora guarda te lo dico subito perché io vedo Messico Spamia Germania no te lo confermo non è ancora arrivato per dire vedi ok ha fatto 13 milioni in Messico qui se non erro non lo vedo neanche in Cina tempo al tempo ma quindi prossima settimana allora noi abbiamo Kung Fu Panda che questa settimana ha fatto quindi 30 milioni si prossima settimana Ghostbusters non li fa 22 23 25 ecco stiamo cercando di ipotizzare la sorte di Ghostbusters eh gli analisti che dicono un attimo sai che non sono andato a controllare innanzitutto quanto è costato il film secondo me di più del del precedente ma si sai perché perché si sono spostati in location siamo a New York la cosa è diventata un po' più ampia un po' più ambiziosa rispetto a Legacy quindi secondo me qualcosina in più qui leggo attorno i 100 milioni quindi non dovrebbe neanche fare sta performance inaudita eh se fossero veramente 100 milioni dovrebbe farne 300 le proiezioni sono più positive di quanto potessi aspettarmi sai qui lo danno la prima settimana in America ipotizzo stanno parlando di risultato globale devo approfondire no ok parlano dell'America tra i 35 e i 49 milioni ok con una conclusione tra i 96 e i 144 sai che me l'aspettavo più alla ribasso si qualcosina in meno sono molto ottimisti poi magari li fa cioè magari davvero prossima settimana al primo posto perché dai 25 milioni sembra forse troppo poco eh più che altro non riesco ma magari parlo più da detrattore non riesco a capire quanto cioè se l'investimento sarà cioè se ehm se era già sensato farlo quando è arrivato Ghostbusters Legacy perché io mi ricordo sempre Ghostbusters Legacy 300 milioni li ha fatti non ne ha fatti 204 sì era costato 75 però non è che parlavamo di risultati sai che c'è non solo il budget lo aumentiamo ma facciamo qualcosa di ancora più ambizioso cioè non mi sembrava che ci fossero quegli auspici tipo sai eh boh non lo so non capisco questa mossa di Sony poi invece eh tra tre settimane saremo qui a vedere che tipo sai ha fatto 350 milioni hanno avuto ragione speriamo mi lascia un po' perplesso sta cosa personalmente spero anche che la qualità aumenti rispetto al film precedente sarei felicissimo di andare a vederlo e dirvi wow mi sono divertito come un bambino in fasce e in quel caso gli augurerei il meglio ma anche in caso contrario l'importante è che vadano bene così siamo tutti contenti e felici già comunque gli analisti li vedo più propensi all'ottimismo di quanto avrei potuto ipotizzare curioso quindi noi qui lo diciamo settimana prossima primo posto per le acchiappa fantasme non ti vedo confi dai qui al minimo dicono 35 milioni per forza minimo 35 è fatta sì sì faccio i conti perché Kung Fu Panda vabbè prossima settimana se cala di nuovo del 48 ma dovesse anche un po' assestarsi vabbè dai 19 di certo non può andare in aumento Kung Fu Panda no quindi no vabbè dai io spero come fa di una resistere al primo posto se già al secondo cosa che dite ragazzi per piacere un po' di logica non voglio risultare malvagio però scusate se sta settimana al secondo posto è incassato 29 milioni settimana prossima cala se Ghostbusters invece dovesse esordire minimo cd con la 35 milioni è al primo posto per forza come fa di una resistere si infatti a limite scavalca Kung Fu Panda a limite fermandosi alla seconda posizione ma come fa ad andare al primo no ma infatti il mio dubbio non era tanto sulla prima posizione era proprio sulla questione almeno 30 milioni visto che ci sono si aspettano questo tipo di esordio almeno 30 non lo so sono eh che c'ho tipo la cosa forse da detrattore mi dà quella sensazione del bo secondo me non se lo caga nessuno però è una cosa mia personale però se gli analisti sono ottimisti ah ok sono preso lucciole per lantarne però ripeto dovrebbe fare meno di no aspetta no vabbè in quel caso di questo siamo sicuri almeno 15 milioni deve fare tipo per cavolo sarebbe una tragedia no no lì non assolutamente ok vabbè comunque stiamo facendo anche dei calcoli inutili vediamo settimana prossima passiamo al secondo argomento dai su non abbiamo speso anche forse troppo sul primo ole secondo diverse testate che ovviamente non hanno la notizia ufficiale ma voci di corridoio indiscrezioni Ant-Man 4 e Captain Marvel 3 in casa Marvel Studios sarebbero stati cancellati la mia prima reazione è una notizia Ant-Man and the Wasp Quantumania è stato un flop The Marvel è stato il peggior risultato in tutta la storia del Marvel Cinematic Universe tutta e cosa devi fare? ma secondo me non ci stavano neppure pensando leggiamola così non ci sono possibilità perfetto se mai qualcuno arrivasse lì ma facciamo un bel Ant-Man 4 no e Capitan Marvel no ma sul serio mi viene da dire grazie alla cippa è normale è adeguato non voglio utilizzare il termine giusto però c'è una notizia di contorno sempre bisbigli bisbigli se qui abbiamo la scura è già calata e qui sì che è più interessante anche Eternals 2 potrebbe fare la stessa fine ma ci sarebbe una scissione interna tra Bob Iger che non ne vuole proprio sentir parlare degli eterni di tutti i personaggi a loro associati Kevin Feige invece starebbe spingendo per proseguire per tirarlo fuori questo sequel Eternals 2 probabilmente per necessità narrative è anche un caso abbastanza curioso quello di Eternals perché uscì nel 2021 quindi immaginate ancora la pandemia le mascherine ecco e comunque si portò a casa 402 milioni ottenendo anche un certo riscontro su Disney Plus bisogna anche però ricordare ora che ci penso che la Marvel si aspettava tantissimo da Eternals non solo a livello di incasso e lì ci sono le giustificazioni che sapete ma anche a livello di ricezione c'era chi si riteneva proprio tra i produttori che si trattasse forse del miglior film da loro realizzato fino a quel punto e invece la critica la pensò in modo diverso io voglio andare a ripescare le percentuali ma ricordo una sonora bocciatura su Rotten e in generale se penso anche al pubblico che si confronta su internet che ovviamente rappresenta una minoranza non è che sia questo film ricordato con grande affetto piacere eccetera eccetera qui vedo la critica 47% di recensioni positive con media 5.6 a livello di voto il pubblico più generoso 77% 4 stelle su 5 ma credo si attendessero veramente un risultato eclatante che non è arrivato allo stesso tempo può essere un film che nel corso degli anni ha ottenuto maggior notorietà bisogna sempre capire quanto poi sia efficace la fetta dello streaming nel generare passaparola o nel far riscoprire determinate produzioni comunque facendo un riassunto Ant-Man 4 Capitan Marvel 3 veramente mi viene da dire sì è comprensibile Eternals 2 capisco sia una parte che l'altra capisco Heiger fosse vero che in questo momento non vuole proprio rischiare in nessun modo Eternals 2 comunque rappresenterebbe un rischio perché si tratterebbe senz'altro di un film ad alto budget forse persino altissimo con un cast corposo personaggi che non sembrano neanche essere inseriti a pieno titolo nella fase multiversale se ci pensate stanno facendo tutt'altro sono impelagati in altre questioni quindi sarebbe una scommessa capisco però anche Feige perché a mio avviso era palese che a livello narrativo sulla lunga distanza dovessero essere molto importanti sicuramente aveva dei progetti particolari con loro che possono comunque essere reintegrati di straforo presentando i personaggi nei film di altri infatti questo è un altro ragionamento che va fatto non prendete questi eventuali questi eventuali tagli come non vedremo più i personaggi non vedremo nel caso film a loro dedicati però Ant-Man può saltar fuori in Infinity War Infinity War in Secret War lo stesso vale per Brie Larson eccetera semplicemente stiamo cominciando a tagliare i rami secchi come si suol dire e su Eternals se mi telefonassero adesso per dirmi cosa facciamo io probabilmente darei ragione a Bob Hager io probabilmente direi loro di saltarlo non ce n'è bisogno in questo momento proprio proprio no abbiamo anche lasciato i personaggi in una situazione che permette sufficiente libertà voglio dire abbiamo già visto sotto trame liquidate in fretta e furia gli Eterni che erano stati prelevati per il giudizio di Arishem tornano sulla Terra e ci dicono sì sì Arishem ha ritenuto che il pianeta Terra fosse meritevole di salvaguardia quindi abbiamo vinto e quelli in giro nello spazio con Eros nel frattempo sono tornati anche loro con qualche scoperta particolare da determinare fine inserisci Cersei da qualche parte inserisci se c'ha voglia il personaggio di Barry Keoghan da un'altra parte con i relativi nodi da sbrogliare e hai fatto signor F sì infatti perché a prescindere dal rumor il fatto di tagliare Ant-Man Capitan Marvel 3 e Eternals 2 sarebbero un'ennesima dimostrazione che i Marvel Studios starebbero abbracciando un po' la filosofia disneyana di Bob Iker no non posso dirmi sorpreso della cancellazione di Ant-Man 4 perché io mi ricordo prima dell'annuncio di Ant-Man 3 si diceva proprio che non volevano fare il sequel cioè già dopo Ant-Man and the Wasp pensavano ma forse il terzo è meglio che non lo facciamo e decisero di ingigantirlo per dargli una sensazione di evento mamma mia quelle decisioni che proprio ti rimangono sul groppone però se tu stai cancellando Ant-Man stai cancellando Capitan Marvel e stai cancellando gli Eterni mi rafforza quella cosa del scusate ma come pensate quindi a un film su Scarlet Witch a un film su Nova a un film sugli altri tizi a un film su Ghost Rider cioè ovvio che stiamo andando davvero a tagliare i rami secchi ovvio che stiamo andando un pochino a cercare di capire cosa va e cosa non va e se fai un film sugli Eterni sono più di 200 milioni che gli devi destinare non credo che sia il momento giusto tant'è che ci sono ancora voci di corridoio che parlano di una moltitudine di progetti che dovrebbero arrivare e poi torniamo sempre lì ma ne vale la pena secondo me Eiger ha trovato un po' la quadra dappertutto raga non ne vale la pena Feige può anche perché magari è un tipo a cui a cui tiene i suoi personaggi un tipo che ci tiene a continuarti le storie line a chiudertele tutto quello che volete ma qui parliamo di una non lo so un meccanismo che si è incrinato proprio perché ogni storia è diventata stand alone quando arrivavano gli eterni la multiversaga non si chiamava ancora nemmeno multiversaga perché non lo sapevano che dovevano parlare di multiverso o meglio non a questi livelli non pensavano ad Avengers Secret Wars quando stava arrivando Eternals quando l'avevano prodotto perché si parla che era il 2020 il 2019 quando hanno cominciato ad affacciarsi al progetto quindi pensare adesso a loro è un film in quanto tale no è troppo li fai tornare in Avengers 5 qualcosa te la trovi un modo per un escamotage di sceneggiatura te lo trovi per il resto vai così e continua così togliamo perché io vedo ancora gente che tipo cerca di trovare una quadra anche alle serie e io dico meno serie fai meglio è cioè pensate invece a diminuirle le cose pensate a film cioè infatti la gente diceva ma allora anche Shang-Chi hanno tagliato se hai tagliato tutti questi film probabilmente qualcuno almeno uno te lo tieni poi non è detto che Shang-Chi 2 lo faranno però non è che o tutti o nessuno ma Shang-Chi 2 già fece 32 milioni in più rispetto Eternals e soprattutto venne bene ricepito io qui vedo esattamente 91% da parte della critica media voto 7 e mezzo il pubblico 98% 4 stelle punto 8 su 5 mi sembra una situazione diversa se devi scegliere e hai 150 milioni di budget da destinare e vai a destinare a Shang-Chi 2 magari si fa vive anche di riflesso perché arriverà che ne so Spider-Man 4 arriverà Thor qualcuno che potrebbe un po' spingerlo il prossimo anno escono i Thunderbolts non è che Kevin Feige sta pensando ai Thunderbolts come il film campione di incassi ma che magari c'è un brand più forte come Captain America potrebbe farlo potrebbe il suo riflesso potrebbe aiutare Thunderbolts a fare qualcosina in più perché di questo si parla nuove leve e vecchie leve che cercano un po' di trainare quelle nuove ma se tu cominci a fare Scarlet Witch Shang-Chi Eternals Ant-Man 4 Capitan Marvel 3 ma insomma dobbiamo anche tener conto che questi film non sono andati bene poi a me Eternals è piaciuto ma se dovessi pensare a quella formula lì in questo momento scusate sarà un un popular però secondo me lo vuoi male l'universo comunque che Shang-Chi non è stato un successo sarà anche costato 150 milioni ma ne ha incassati 432 mettete anche caso che ok non c'era bisogno del terzo c'era bisogno solo di 400 sì 32 milioni in più non mi pare che la Marvel fosse abituata a quelle cose se lo contestualizziamo in pandemia che è il periodo in cui è uscito è andato molto molto bene però lo stesso allora vale per Eternals l'unica differenza è che aveva fatto 400 la differenza è come sono stati accolti e le aspettative che c'erano su ciascuno perché come ho detto prima su Eternals puntavano moltissimo non molto moltissimo Shang-Chi invece era un personaggio sicuramente che avremmo trovato e troveremo negli Avengers ma era un film più tipico un po' più avventuroso tradizionale per gli stili Emi Marvel Eternals era la scommessa e non è andata a buon fine a quanto pare poi io capisco anche Kevin Feige lo ripeto si potrebbe dire magari il pubblico ha avuto modo di recuperarlo in streaming è passato del tempo forse è piaciuto in un modo che neanche noi abbiamo soppesato e quindi il sequel andrebbe meglio però allo stesso tempo io non lo farei davvero io non ne sento il bisogno in primis come spettatore ho voglia di rivedere quei personaggi francamente no infatti per questo ti dico se dovessi decidere di produrlo vuoi male all'universo secondo me è un po' così e non è neanche un brutto film a me è anche piaciuto attenzione però siamo in una situazione talmente confusa che io di tutto sento il bisogno meno che degli eterni che ritornino con la loro narrazione che sembra molto separata da quella da quella degli altri ma infatti invece Shang-Chi in un certo senso te lo puoi vendere anche nelle dinamiche multiversali diversamente c'era un piano che giocava tutto su queste reliquie bracciali di Kamala gli anelli di Shang-Chi come collegabili a Kang quindi puoi anche farlo diventare tra virgolette un preludio ad Avengers 5 cerchi un po' di impostarlo lo fai diventare importante Destin Daniel Cretton che doveva girare Avengers 5 adesso magari si occuperà di Shang-Chi 2 quindi potrebbe anche decidere di farlo diventare un po' più importante si vocifera addirittura un Iron Fist qualcosa tipo team up e secondo me più spendibile perché nel frattempo lo piazzi in mezzo a a Spider-Man 4 a Doctor Strange 3 a qualcosa che comunque è più importante cioè immagina il freno a mano tirato arriva Eternals 2 in questo momento arriva Eternals 2 non lo so non riesco cioè gli sono rimasti così sti Eterni sti Eterni eh sì sono un po' lì appesi c'è una domanda curiosa un film grosso la Marvel quando lo tira fuori a parte il fatto che a maggio c'è un certo Deadpool e Wolverine che mi sembra un filo rilevante soprattutto a livello di gradimento popolare ma siamo reduci l'anno scorso da Guardiani della Galassia volume 3 da Ant-Man and the Wasp Quantumania che lo so che è triste dirlo ma era un film grosso eh sì eh sì eh è lì la gabola era un evento sì eh il prossimo anno avremo almeno due eventi e mezzo se ci metti Cap Fantastici 4 e un po' Thunderballs quindi sì cioè l'idea è quella portare progetti per cui valga la pena perché ho detto maggio è a luglio vabbè a luglio eh no perché tu lo vuoi prima l'avevano rimandato forse forse sì ad un certo punto mi sembra era maggio però perché si era scambiato di posto con Cap 4 poi Cap 4 è andato è rimasto maggio nel cuore sì sì in realtà loro stanno proponendo nomi di peso però capite che se non percepite questi titoli come rilevanti figuriamoci Ternals 2 e allora ha ragione Bob Iger torno a quello che dico prima assolutamente ragione lui infatti resto convinto che la fase 6 durerà pochissimo un non nulla durerà se ci sono 5 film è già tanto comprendendo i due Avengers comprendendo i due Avengers sì sì perché quando li vuoi far uscire questi due Avengers quando? l'anno prossimo è coperto lo sappiamo 2027 direi è il limite ma è il limite per il primo dei due io è il limite sì sì perché ma io già dovesse restare tutto così io ti dicevo addirittura 2026 eh a me piacerebbe immaginare un fine 2026 mi piacerebbe molto arrivano in autunno io perché forse il Natale è già prenotato non so se dava ne abbiamo già parlato in un DG Cinecomic ma io ogni volta che devo pensare alle timeline mi viene più da tagliare che da aggiungere penso Armor Wars lo devi girare il prossimo anno tanto per ora c'è tempo taglialo che ne so a ottobre trova una scusa e cancellalo lì dipende sempre da quello che vogliono fare perché se riescono a convincere e io continuo ad insistere lì se riescono a convincere Robert Downey Junior a farti il cammino Armor Wars di colpo hai uno strumento di marketing che poi immagino e penso tu me lo possa confermare non sarà più il film su War Machine no sarà un film con tanti personaggi corale e allora c'è anche l'attrattiva del piccolo crossover in stile Capitano America ma infatti infatti quest'anno si terranno i reshoot perché i reshoot di Ironheart dove lo stanno arricchendo con collegamenti all'MCU quindi già sta diventando una sorta di preludio non è più una serie fatta così e basta quindi magari trovano del valore commerciale ma in tante altre cose no davvero saltatela poi se lo chiedi a me io di Armor Wars non me ne faccio niente niente ma anche la questione ma io ti dico poi sono anche drastico perché forse non ho letto i fumetti ma io nemmeno gli Young Avengers cioè io non vorrei un film sugli Young Avengers ma va ehm caro signor F lei non vuole un film sugli Young Avengers può ripeterlo? non voglio un film sugli Young Avengers lo so dove vuoi arrivare e uno sui Teen Titans invece? eh? oh che collegamentone eh? che meraviglia ok a posto signor F i Teen Titans ha voglia? eh li conosco tutti è stato annunciato quindi facciamo il passaggio della barricata è stato annunciato in casa DC Studios un nuovo film quello sui Teen Titans ad occuparsene la sceneggiatrice di Supergirl Woman of Tomorrow che risponda al nome di perché ho perso l'articolo ero così pronto e preparato ma adesso ve lo dico in 448 risponda al nome di 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 a parte che Anna Nogueira che voi direte ah certo la celeberrima in effetti è nota più che altro per essere un'attrice e quella di Supergirl è la sua prima sceneggiatura per il cinema è una drammaturga quindi evidentemente deve avere entusiasmato le alte le alte leve che l'assegnano già un secondo progetto quindi questo non mi sembra un problema magari Regan ha scoperto un talento auguriamo il meglio possiamo valutare per quanto possibile la logica di proporre Teen Titans sottolineo per quanto possibile perché noi di questo universo condiviso della DC non sappiamo niente oltre alla lista degli annunci non sappiamo quanto saranno importanti collegamenti a che punto della narrazione ci mettiamo nei vari film se vogliono arrivare ad un mega crossover in stile Avengers stavolta con la Justice League non sappiamo neppure quanto sarà lungo questo cosiddetto capitolo 1 Gods and Monsters viaggiamo nell'ignoranza più totale quindi anche le nostre valutazioni sono incredibilmente parziali quindi fatta questa doverosa premessa io la decisione di realizzare un film sui Teen Titans proprio non la capisco per due motivazioni la prima è se vogliamo pratica la seconda è più attinente a pippe da appassionato da qual inizio? da quella pratica da quella pratica ok a gennaio 2023 il signor James Gunn ci presenta una lista di progetti quanti erano una decina forse anche di più tra film serie ecco tra quei progetti non figurava Teen Titans che adesso ottiene la luce verde prima di molti altri cosa che mi denota signor Gunn una certa confusione cosa è successo all'improvviso? quindi quella lista lì di gennaio non conta già più una cippa? è molto probabile e già qui non riesco bene ad orientarmi caspita siamo molto severi con la Marvel quando reinvia posticipa applichiamo lo stesso ragionamento alla DC altra cosa sempre a livello diciamo pratico ma quanta roba stanno annunciando senza aver ancora visto niente io spero tanto di no ma se Superman dovesse andare male poi arriva Supergirl che a quanto pare sta diventando il secondo film e anche quello Tonfo di tutta sta roba luce verde di qui luce verde di là annunciamo 15 titoli mi ricorda una dinamica che abbiamo già visto e vissuto vi ricordate tutta la lista dei film del vecchio universo espanso dove c'erano dentro Cyborg The Flash ma con un'altra data ben prima di quando l'abbiamo visto noi non mi sembra molto dissimile come tecnica perché non si può procedere più lenti si erano fermati a un certo punto bene e comincia a svilupparmi authority The Brave and The Bold Swamp Thing comincia a parlarci di quella roba lì che c'è già detto invece arriva un altro treno e vabbè possono aver cambiato idea e possono aver approvato dei film migliori quindi saremo tutti contenti di vedere sto Teen Titans passo al livello più da Pipparolo sarò strano io però di conoscere l'esistenza di un film sui Teen Titans prima che in qualsivoglia modo si sia visto un accenno di Justice League mi fa davvero strano magari scopriamo con Superman che la Justice League esiste già semplicemente lui non ne fa parte però esiste è un supergruppo composto da Batman Wonder Woman Flash poi i personaggi te li puoi anche inventare sono un po' delle figurine interscambiabili cifichi Martian Man Hunter quindi Superman che dovrebbe essere il suo secondo anno di attività entra all'interno di un universo che è molto più formato rispetto a quanto possiamo pensare e quindi ci sono anche i Teen Titans già pronti al servizio è la scappatoia che sto cercando nella mia mente per dirmi ok ci sono anche altre implicazioni è evidente che se la formazione base verrà rispettata e non è assolutamente detto ricordatevi i guardiani della galassia allora c'è già quantomeno un Robin che forse persino è diventato Nightwing quindi Batman avrà un'età forse più attempata rispetto a Superman e anche qui può piacere oppure no ci sono io con un po' brontolo ci sono quelli che se ne sbattono anzi dicono anche ma si va bene vogliamo un Batman più maturo più adulto anche per contrapporlo a Pattinson che intanto zitto zitto c'ha 40 anni però nel senso fisicamente parlando ok insomma si tratta a volte di questioni di lana caprina però io non riesco ad essere entusiasta sulla base dell'annuncio non riesco veramente ad incasellarlo io forse sto aspettando una una tessera del puzzle che dia senso al quadro generale invece continuano a lanciarmi pezzi che all'apparenza non si incastrano con gli altri quindi oggi mi hanno lanciato un altro pezzo tutto zigrinato che dove lo ficco sto Teen Titans rispetto al disegno che mi hai proposto a gennaio 2023 dove dove lo infilo non lo so personalmente non lo so però forse all'improvviso otterremo le risposte che cerchiamo e cominceremo a festeggiare ad applaudire a ballonzolare in giro belli contenti lo spero signor F sì cioè tipo è arrivato l'annuncio venerdì dico sai deve arrivare roba a tema di sì stasera che cos'è l'annuncio dei Teen Titans sì non conoscendo nulla a riguardo ho avuto chi un po' mi ha istruito ho cercato di capire un po' anche ma chi cavolo c'è nei Teen Titans che Robin c'è Robin c'è Nightwing infatti poi anche a Mattia chiedevo prima della live e il punto è che ma perché cioè tu hai fatto un video di annunci invecchiato o meno perché poi è invecchiato finché se non te lo dice lui come fai a dire che è invecchiato fino a prova contraria a tutti quei progetti che sono stati annunciati in quel gennaio del 2023 li deve fare tutti ce lo deve dire lui sai ho cancellato Authority noi possiamo in alcune cose veramente si può speculare però se tu hai annunciato quelle cose lì hai dei progetti segreti Gunn ce li ha dei progetti vuole arrivare fino a dove vuole arrivare giustamente fra Justice League situazioni anche altre serie non le annunci perché non c'è bisogno ne hai annunciati 10 non ne fa non capisco perché poi arriva l'annuncio dei Teen Titans e ho capito magari c'è chi è affezionato a questo tipo di di personaggi magari per i fumetti per le serie non lo so io personalmente dico ma perché l'hai fatto ma quindi allora quello che pensavo era vero hai ripensato a tutto quello che hai presentato e ti sei accorto che forse visto che in Marvel ne abbiamo detto prima stanno tagliando i rami secchi forse tu Authority forse siamo fatti due conti in tasca ed è meglio anticipare Supergirl forse Teen Titans suona meglio di altra roba non lo so magari poi invece li fa tutti però mi annunci Teen Titans e non so niente di Authority ancora Supergirl sai con la scusa di aver castato l'attrice con la scusa sai c'è una sceneggiatrice sai che più o meno a Uma Uma si capisce che vogliono cominciare la produzione entro quest'anno qualcosa si sta muovendo ma da come avevano fatto capire Superman e poi Authority da come avevano fatto capire era quella la timeline e un po' mi ha ricordato quello che hai detto tu del DCU un po' e un po' anche Star Wars cioè io mi ricordo tu ne hai detto qualche titolo e mi ricordo pure il Green Lantern's Corps ti ricordi? che dovevano fare il film sulle Lanterne Verde e adesso qui ne abbiamo il film sui nuovi dei sì e qui invece abbiamo una serie sulle Lanterne di cui non si sa niente a parte che Lindelof sarà produttore però infatti ci chiedevano di riepilogare i progetti annunciati lo faccio rapidamente Superman The Authority Brave and the Bold Booster Gold serie Swamp Thing Supergirl Lanterns serie Paradise Lost serie Creature Commandos serie animata Waller serie Peacemaker stagione 2 serie anche questa più adesso Teen Titans sono tantini eh per qualcosa ripeto di cui non abbiamo visto una cippa cioè infatti anche a normalizzare perché se c'è Robin nei Teen Titans ah sì c'è anche la serie sull'Arkham Asylum perdonami vero è stata anche quella è passata dall'universo di Reeves al DCU di Gun quindi c'è la serie sull'Arkham Asylum verissimo verissimo me ne avevo scordato sì cioè e poi noi abbiamo parlato di dell'introduzione possibile del Batman di Pattinson nel DCU ma in questo modo noi avremmo un salto temporale dove Batman ha avuto già di Grayson scoprirà di avere un figlio probabilmente ci sarà Tim Drake tutta la Bat Family e poi nei Teen Titans vedi che questo è diventato Nightwing tipo di Grayson cioè ma c'è chi diceva che nei New 52 io non lo so Batman ha avuto tutte ste robe nel giro di 5 anni boh fattibile o meno a livello cinematografico c'è un'ipotesi che leggo che se vogliamo riesce già a dare maggior senso però ipotizzando che Teen Titans esca dopo The Brave and The Bold ok il Robin di turno potrebbe essere Damien quindi lo lo introduce nel film di Batman e poi forma il suo gruppo è l'unica cosa che mi viene in mente così Batman si alleggerisce e resta con la Bat Family cioè quella che Gunn vorrebbe presentare quindi con Tim Drake se ci sarà Barbara Oracle perché per adesso le prime bozze di The Brave and The Bold parlano di questo è l'unica cosa che mi viene in mente cioè presenti Damien per toglierlo e poi aprirti a una Justice League però abbiamo informazioni su progetti che non c'erano e su quelli che c'erano silenzio di tomba e c'è nel frattempo lui che sta girando Superman quest'anno vorrebbe girare Peacemaker Waller e Booster Gold quest'anno quindi ma che strano ma che è uno strano modo di produrre capisci è molto strano una cosa è sicura la lista che ci è stata fornita non è in ordine narrativo no per niente ma non è in ordine nemmeno mentale secondo me ci saranno cose che cancellerà o ha già cancellato tutte quelle Paradise Lost queste situazioni io comincio a pensare che ci sia davvero un ripensamento ma proprio bello corposo di tutta questa situazione perché vabbè vediamo se riesco a spezzare una lancia gennaio 2023 era una cosa marzo 2024 è un'altra nel frattempo è arrivato Quantumania tutto quello che è successo con i vecchi film del DCU è arrivato The Marvels quindi forse sapendo che dall'altra parte stanno ripensando forse il voler fare come dire i moderni quelli che vorrebbero un po' sconfiggere il sistema MCU forse non è più nemmeno una furbata presentarti con dei personaggi che non conosce nessuno quando ancora non sai niente di Batman niente di Superman niente di delle lanterne verdi di chi magari andrà poi a formare la Justice League dei perni di questo universo cioè personalmente poi non lo so è una una delle criticità di fondo del piano di James Gunn e cioè se tu mi presenti Superman personalmente poi parlandone nell'ultimo anno c'è chi mi ha detto no ma sai l'autority potrebbe non me ne frega niente io già sono allergico a The Boys figurati se mi devono annunciare il nuovo DC e mi dicono sai che c'è c'è un film simile The Boys che potrebbe poi magari nei tecnicismi qualcuno potrebbe dirmi no ma non sono come non c'entra niente con quella cosa lì però è uguale io voglio vedere The Brave and The Bold vorrei sapere qualcosa in più su quel progetto lì ufficialmente da gun perché poi magari a uma uma ma ok però arriva la mi destabilizza la questione del annunciamo ancora roba io sono allergico agli annunci ormai dopo due anni da quel comic con di Kevin Feige ti ricordi che eravamo tutti tipo esagitati non vediamo allora da quel momento in poi io sono diventato allergico agli annunci non ce la faccio più ce la faccio più è strano infatti sai che c'è mi sentivo dopo che tipo su Instagram mi è arrivato l'annuncio o cose tipo l'ho condiviso ho condiviso la storia io ho visto tanti tipo l'entusiasmo io mi sentivo sbagliato perché dico non lo so e quindi per questo completamente io tipo vabbè bene no ma neanche a me e forse ragioni tu ho una strategia che ormai ci sta un po' facendo scendere il latte alle ginocchia magari sarà un'uscita un po' provocatoria ma io non noto tanta differenza rispetto al produttore del film sui Power Rangers che ancora prima dell'uscita in sala del primo film ti dice ce ne faremo sette non lo trovo molto diverso dalla Universal con il suo Dark Universe che non è ancora uscito la mummia ti fa vedere la foto di tutto il cast principale e ti dice si facciamo la moglie di Frankenstein l'uomo lupo contro la camorra e tutto quel quel filone lì poi arriva la mummia va male e non fanno una cippa no ma sembra quasi una controrisposta alle manifestazioni d'affetto che si sono fatte sul Batman di Pattinson nell'ultima settimana come per dire vedete ma se in realtà stai girando Superman ringalluzzisci con Superman se stai girando qua non mi sembra così distante è un po' strano è un po' strano e soprattutto quando parlano sono disordinati non c'è niente da fare sono disordinatissimi e non pretendo di conoscere tutte le pieghe narrative questo è collegato con quello quell'altro fa riferimento a quest'altro no non me ne frega ma fai la lista dei progetti mettila quantomeno in ordine produttivo poi le cose possono cambiare non è che dobbiamo arrivare lì e quindi te lo può dire abbiamo ripensato ma certo però almeno un'idea almeno uno spunto no ma perché così è probabile anzi secondo me sarà così poi vediamo che tu vedrai superman a luglio 2025 e il secondo film è supergirl sì sì cioè quindi zero varietà cioè già a pensarla così ma non è che lui ha confermato che non sono in ordine però c'è un po' di logica voglio dire superman lo sta girando l'altra sceneggiatura pronta è quella di supergirl addirittura la sceneggiatrice di supergirl l'ha finito e l'ha messa sui teen titans e tutto il resto come fa ad arrivare prima authority di una roba è la sceneggiatura pronta per girarla tra cinque anni no ce l'hai pronta perché è il secondo della lista no no ma perché anche a livello proprio boh di di concept superman supergirl lui aveva messo authority magari un po' per cambiare per dare lo stacco si se tu lo togli boh uno va avanti e uno no si lì paradossalmente il collegamento c'è io rimango convinto che supergirl sarà nella post credit di superman e il secondo film su di lei quindi lì un minimo si certo allo stesso tempo però sai c'è un numero di personaggi incredibile in quel modo diventa un po' tipo si allo stesso tempo secondo me non ha senso lanciare supergirl subito dopo superman ma quella è una paturnia mia magari al pubblico piace ma infatti noi infatti è questo noi venerdì abbiamo fatto faccia di nerd interrogandoci sul destino di The Brave and The Bold e di The Batman Part 2 ti arriva l'annuncio dei Teen Titans a prescindere dal nostro quesito dalle nostre speculazioni e no il focus l'avevamo su The Brave and The Bold tu mi hai aggiunto un'altra cosa noi vorremmo cioè una cosa in più su quello non lo so vabbè come al solito lo ripeto sono tutti dubbi che derivano dal non sapere niente quando cominceranno ad aprirsi probabilmente un raggio di luce ci investirà e vedremo questa valle verdeggiante piena di animali da latte sì poi non lo so se magari vabbè comunque poetica non so poi anche la questione forse per ragioni produttive visto che sarà impegnato in Ohio con Superman il fatto di mancare al Comic Con è l'ennesimo l'ennesima occasione mancata per poter fare chiarezza questo non significa che magari prende e fa un altro video si mette lì e fa una live e si mette a spiegarci le sue intenzioni però continuiamo a capire veramente poco di quello che vuole fare e come vuole farlo sì arriveremo alla Justice League Gods and Monsters sto piano durerà quello che durerà il cattivo dovrebbe essere quello là faremo quelle cose lì però Teen Titans e torniamo agli Young Avengers vedi la differenza mi frega i cazzo di uno né dell'altro dobbiamo andare a snellire a portare qualcosa di più interessante e minchia cioè boh e qui vediamo troviamo due major che stanno facendo cose diverse completamente da una parte si va a tagliare dall'altra parte si va a rimpolpare ma infatti chi avrà ragione ma il paradosso è questo allora noi ci interrogavamo a gennaio del 2023 su un piano di James Gunn che non voleva fare come aveva fatto la Marvel ti ricordi quando discutevamo sulle eventuali criticità sai perché non fa un film su Superman su Wonder Woman su Batman e poi la Justice League no lui vuole allontanarsi io mi ricordo che ero uno di quelli che difendeva questa scelta dice sì che facciamo sempre tutto uguale no vuole distanziarsi solo che ora è passato un anno e mezzo e adesso comunque se tu decidi di partere in medias res significa che ti vai a risparmiare delle scommesse abbiamo un Batman fatto e finito che può essere una cosa buona oppure no però se tu adesso lo stai rimpolpando con non lo so io poi sulla carta Teen Titans sai gli possiamo dare 180 milioni di budget che ne fa 800 non lo so però ecco da quel punto di vista distanziarti dai Marvel Studios non significa arricchire il progetto editoriale di roba che è critica comunque io già quello Swamp Thing ce l'ho qui però sai magari con 70 50 milioni lo fai sai quindi vediamo non deve costare tanto quello ma tu immagina attualmente perché poi uno deve fare sempre i confronti attualmente un personaggio amato o meno come Scott Lang nel DCU tipo Gunn se lo sogna e dall'altra parte non lo vogliono fare più Ant-Man 4 e questa è la dimensione vediamo vabbè io sto notando che tutti quelli sì sì sono dei progetti bellissimi state passando dalla mia parte uno dopo l'altro uno dopo l'altro io ti posso dire una cosa ogni volta state capitolando io ti dico che anche a Uma Uma quando mi arriva qualcosa e quella cosa non mi torna o non mi piace io ti penso Mattia grazie e quindi poi c'è quel pizzico di onestà intellettuale anche se cerco di non dimostrartelo però era uno sciocco a gennaio 2023 ma no sono annunci bellissimi e James Gunn grande fiducia però credo ancora in James Gunn questo lo dirò sempre vediamo poi cosa succede però certo se ti dico i Teen Titans no anch'io eh io sono convinto che Superman ci entusiasmerà non è quello che mi fa paura è il poi è il poi ok è il dopo ed è il riscontro a livello economico perché io lo dico sempre perché io lo dico sempre per me Gunn non ha mai fatto un film brutto quindi su quello ci siamo ma c'è tutto oddio ora che ci penso io peacemaker l'ho mollata detto questo angolino dell'autopromozione ancora carissimi spettatori vi invito a iscrivervi al canale a mettere mi piace se state apprezzando questa puntata dello show e soprattutto commentate perché adesso è il vostro turno sì, non abbiamo tantissimo tempo quindi le super chat diventano di fondamentale importanza ma soprattutto sono incredibilmente rilevanti gli abbonati perché gli abbonati hanno la massima priorità per quanto riguarda l'ascolto delle loro domande audio e possono godere anche di ulteriori vantaggi ricchi premi, cotillon giusto appunto gli abbonati ogni settimana possono anche assistere a due dirette in più della durata di un'ora in cui il sottoscritto in singolar approfondisce argomenti vi racconta la rave e la fava interagiamo, ci conosciamo meglio gli abbonati di livello più alto possono diventare protagonisti del canale diventare ospiti nell'ambito delle puntate del mercoledì del Matioski Show quindi andate a curiosare schiacciando sul pulsantone abbonati vi ricordo la collaborazione con Pampling sito di t-shirt a tema nerd con stampe che fanno riferimento a tutto il mondo della cultura pop quella di oggi è proprio per esperti non saprei neanche non servono tante parole dai è un dinosauro che ci fa compagnia nei momenti più difficili che ci aiuta a superare fasi tristi disperate dimesse quante volte avete giocato con questo dinosauro mentre aspettavate che la vostra connessione si riattivasse quante volte perché non omaggiarlo perché non celebrarlo Pampling ci ha pensato per noi se volete anche curiosare nel catalogo vi consiglio di farlo perché ci sono tantissime t-shirt per tutti i gusti e quando troverete quella che fa al caso vostro vi consiglio in fase d'acquisto di utilizzare il codice Intima8 che vi permette di portarvi a casa anche un paio di calze gratis sono calze sempre con stampe di questo tipo colorate divertenti citazioni a film serie tv eccetera e il codice non scade mai è sempre riutilizzabile vita natural durante quindi se l'avete già usato una volta è ancora attivo in sostanza ogni qualvolta fate acquisti su Pampling ci sono sempre le calze in omaggio che vi aspettano l'importante utilizzare a ripetizione il codice Intima8 abbiamo poi NordVPN che ci fa compagnia il servizio VPN dalle molteplici funzionalità che ci permette di navigare in rete in totale sicurezza ci consente di collegarci a siti che magari sono stati oscurati in Italia ci permette di collegarci ad internet da un luogo qualsiasi a nostra scelta del globo ovviamente in modo fittizio voi rimanete lì sulla poltrona di casa ma siete collegati dal Guatemala cosa che vi permette di accedere a promozioni vantaggi geolocalizzati a tal proposito utilizzando il link che trovate in descrizione nordvpn.com slash matioschi vi cuccate uno sconto esclusivo la possibilità di utilizzare il servizio per quattro mesi gratis abbonandovi al piano biennale e soprattutto c'è l'opportunità di chiedere il rimborso totale del 100% entro 30 giorni qualora doveste scoprire che nordvpn l'avete provato ma non fa il caso vostro vi ricordo anche la collaborazione e andiamo a chiudere l'angolino con la piattaforma streaming tutta italiana hodtv.net è una piattaforma interamente dedicata al circuito indipendente del cinema horror e thriller internazionale quindi trovate tantissimi lungometraggi e cortometraggi che sono irreperibili altrove tutti in lingua italiana magari alcuni solo sottotitolati ma comunque il livello di fruibilità è massimo se siete degli appassionati ci sono tantissime chicche e vi dirò di più già di base collegandovi al sito potete iscrivervi gratuitamente per un mese per capire se fa il caso vostro ed eventualmente per rinnovare l'abbonamento ma se utilizzate il link che trovate in descrizione in questo momento oppure questo magico codice QR che adesso dovrebbe funzionare vi ritrovate catapultati in un form di iscrizione che vi permette di utilizzare hodtv per 60 giorni 60 giorni gratis quindi approfittatene poi magari scoprite che non fa il caso vostro ma se siete appassionati di horror di thriller e volete dare un'occasione a film di cui magari non avete mai sentito parlare potete farlo per due mesi c'è anche l'opportunità di vedere questi prodotti in compagnia invitando altri utenti all'interno di una sala cinematografica virtuale potete vedere il film assieme e commentarlo in un'apposita chat fatemi sapere poi se avete provato la piattaforma e come vi trovate molto bene abbiamo un quarto d'ora di tempo per ascoltare le domande degli abbonati caro signor F è pronto? siamo pronti e allora oggi il primo è devollo in mente di lasciare Kang come villain di Avengers 5 e 6 ma allo stesso tempo stanno pensando di inserire un altro villain della multiverse saga poi cosa ne pensate di questo rumor secondo voi sarà il villain della multiverse saga definitivo oltre a Kang fatemi sapere la vostra grazie e va Nightwing insieme a Kang a fare no vabbè diciamo che niente di nuovo cioè Kang rimane il villain principale un altro villain non saprei io sono non vedo l'ora di recuperare le secret wars perché tra destino e compagnia bella cioè non ci metterei niente del genere metterei tipo una anche una trasposizione di un personaggio che diventa un villain senza che questi debba necessariamente essere destino non lo so chi parla di Arcano chi parla di altre robe beyond cioè infilaci qualcuno un cretino tipo che sta lì e fa del resto una variante di Kang si serviva di Modok quindi anche un sottoposto di qualsiasi tipo se dovesse se dovessimo trovare il Kang quello prime quello proprio che dovrebbe distruggere tutto il multiverso un sottoposto a un certo punto vede tipo che non è più Jonathan Majors e lo uccide diventando lui il villain tipo principale io darò una risposta controproducente vai non lo so e non mi interessa beh sì perché poi uno è che poi la tranquillità è quella non lo so se tu sai che non ci sarà più Majors questa è la cosa che non ne ho idea come facciamo a saperlo mancano non so quanti progetti come si fa ad ipotizzarlo anche solo per divertimento non ne ho idea e non mi interessa perché è un rumor ma lascia un po' il tempo che trovas boh che ne so può essere l'arcano può essere destino può essere un personaggio multiversale che non conosciamo può essere la rava la fava ma ma addirittura io rimango rimango sempre di quella posizione la minaccia principale saranno le circostanze perché se si basano sulla secret war fumettistica più recente ci sono le terre del multiverso che si stanno distruggendo quindi questi devono sopravvivere punto poi si ovvio che hai bisogno di una minaccia fisica perché qualche sequenza di combattimento la vorrai pur avere per adempiere la spettacolarità ma di base è la situazione ad essere pericolosa e possono anche scontrarsi tra terre se ne sopravvive solo una magari quella che abbiamo visto con bestia e presumibilmente altri x-men pronteggia per via delle circostanze avverse gli avengers che conosciamo noi e nessuno è buono o cattivo però si scannano momentaneamente poi ci sarà l'alleanza finale tipico ma non riesco a fare ipotesi non sappiamo niente ho finito secondo intervento di devollo una seconda domanda vi volevo chiedere visto che si parla di un progetto sui finiti della mezzanotte come film nell'am simu io vi chiedo se lo annunceranno sareste curiosi? io sulla terza sono molto curiosissimo perché ho sempre voluto un film sui finiti della mezzanotte ma soprattutto un progetto sul posternale nell'am simu questo è un sogno magnato e mi portò soprattutto si parla in questo film di Mephisto come villain quindi questa è la domanda siete curiosi sì o no i figli della mezzanotte fatemi sapere la vostra grazie ancora signor Este infatti io mi concentrerei intanto se riusciremo a vedere Blade prima dei figli della mezzanotte perché il problema è che la Marvel vuole fare figli della mezzanotte da tipo tre anni e vuole fare da quattro cinque anni Blade ancora non è arrivato nemmeno Blade e c'è Marcellari che tipo fra poco fa il villain della pellicola quindi se non arriva quello e non ha un buon risponso altro che figli della mezzanotte e per tornare al discorso Eternals anche qui Jack Russell è in giro per il mondo insieme a Ted perché quello special ha avuto l'importanza che ha avuto se le circostanze fossero diverse potrei anche dire ma certo buttateli in mezzo i figli della mezzanotte con Blade Licantropus e compagni se le circostanze fossero diverse ora come ora non me ne frega personalmente niente e non avrebbe alcun minimo senso puntiamo sul sicuro cerchiamo di arrivare il prima possibile agli Avengers chi se ne frega di gruppi minori su personaggi che lasciano anche il tempo che trovano Ghost Rider ma tra tutto la voglia di vedere Ghost Rider nell'MCU io non ce l'ho sono onesto poi ripeto se adesso fossimo in tutt'altra situazione tutti i progetti hanno avuto un successo eclatante continuano a produrne 20 all'anno e buttateci anche quelli ma ora proprio no ma ora proprio no ma perché è finito il periodo sperimentazione il periodo apriamo le costole che magari prendiamo altri fan qui siamo proprio dobbiamo tornare alle basi e quindi tu pensa figli della mezzanotte ma qui siamo a digiuno degli Avengers che è la cosa importante di questo universo ma sì per questo non riesco a io voglio gli Avengers qualsiasi altro annuncio è un ostacolo ed un impedimento al raggiungimento di quel traguardo quindi da parte mia troverete sempre un'espressione di sgomento stanno tagliando cosa aggiungi state tagliando se aggiungi mi aspetto di nomi importanti di peso banalmente Thor 5 esatto che secondo me faranno Doctor Strange 3 che secondo me faranno ma non i figli della mezzanotte è purtroppo sì la mia risposta lo ripeto è rapportata al contesto in contesti diversi sarebbe diversa chiuso ciao ciao film che seppur non all'altezza dei primi tre ho comunque avversato da qui nasce la mia domanda vorrei sapere quali sono secondo voi i sequel di film di animazione che secondo voi sono stati i migliori di quello originale a me vengono in mente alcuni esempi lo stesso Kung Fu Panda 2 Shrek 2 Il Gatto con gli Stivali 2 e Toy Story 3 che secondo me è il migliore della saga finora vorrei sapere se avevi in mente qualcos'altro grazie mille su Toy Story 3 dopo la retrospettiva io lo vedo molto equilibrato con il primo non riesco più a dare una supremazia definitiva il primo una magia tutta sua il fascino della sperimentazione della scommessa della cosa mai fatta prima con il senno di poi non sono così pronto a dire il terzo è meglio Kung Fu Panda 2 sono d'accordo il Gatto con gli Stivali 2 non l'ho visto Shrek 2 sono d'accordo dicono in chat Dragon Trainer è una saga che dovrai rivedere no io mi ci sono il secondo senza fare spoiler tipo secondo me hanno deciso di fare una cosa che ho odiato ho capito qual è e infatti credo per lo stesso motivo sono indeciso ok sono d'accordo con Shrek Shrek 2 il Gatto con gli Stivali 2 assolutamente sì secondo me è più bello del primo devo recuperarlo anzi devo recuperarli non ho visto neanche il primo sequel dicono Frozen 2 sì ok io ancora devo vederlo il 2 non parliamo di cose eclatanti ma sì io a tratti riesco a lo so che sarai in disaccordo a tratti across the spiderverse ma a tratti è meglio il primo per me no è meglio il primo Bianca e Bernie nella terra dei canguri grande Luca io ti dico no li ho rivisti una settimana fa il primo è più bello secondo me io amavo il secondo è uno dei classici sottovalutati della mia infanzia la VHS l'ho consumata ecco quando su Facebook trovate forse non vi ricordate di questo film di cui invece parlano sempre tutti che è il pianeta del tesoro dannazione forse in pochi si ricordano di Bianca e Bernie nella terra dei canguri vero e in generale di quei due topini che meraviglia che era ma proprio tutta l'impostazione loro che avevano forse non tutti si ricordano di One Piece in pochi si ricordano di questo anime che qualche anno fa su Italia 1 mi fanno morire da ridere quei post cercando di vabbè più o meno li abbiamo detti perché non chissà se Inside Out 2 sarà migliore del primo Madagascar non sono sul pezzo anche l'era glaciale mi sono fermato al secondo ed era più bello il primo si 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 e ti dico che se vai avanti l'era glaciale e il primo non lo batte nessuno Madagascar meglio il primo secondo me stavo pensando ad altri seguiti della Pixar però credo non ci sia nessuno che vada a soppiantare l'unica discussione aperta è quella con Toy Story poi secondo me Cars 1 resta il migliore alla ricerca di Nemo meglio della ricerca di Dori ma ti dico anche i Ralph Ralph spacca tutto per la Walt Disney Animation il primo mi è piaciuto più del secondo di Ralph spacca internet Aladdin 2 no non è vero no ci sono affezionato tantissimo ma anch'io e mi sa che abbiamo finito sto pensando agli altri ma vabbè ma anche banalmente il Re Leone il Re Leone non puoi mettere il Duel beh ma quelli come già far erano sequel pensati per Long Video sì no Lego Movie il primo è imbattibile se poi intendete anche Lego Batman però uno spin-off no beh diverso e comunque per quanto io lo adori Lego Batman alla follia il primo Lego Movie a una portata innovativa maggiore è un finale che ti lascia veramente stupefatto non te lo aspetti no avrebbero dovuto farlo anche con Dungeons & Dragons ma non capiscono niente niente capiscono niente avrebbero dovuto farlo anche con Barbie ma forse sarebbe stato un film più interessante ad un certo punto all'inizio sembra che stiano seguendo quella direzione lì invece poi e invece i Monsters & Co perché io Monsters & Co non lo vedo da un po' però mi ricordo che il primo era più è carinissimo Monsters University ma Monsters & Co imbattibile anche gli incredibili pensate che a me il sequel non piace neanche particolarmente vero vero secondo me abbastanza problematico come film non un disastro ma ma la Pixar per me di roba orribile non mi ha forse mai veramente fatta però no mi sa che abbiamo finito mi sto scervellando ma si infatti una rassegna fatto va bene caro signore F siamo alla fine la ringrazio la saluto e le auguro buoni Teen Titans grazie che bello è lunedì così la settimana valisce anche un piacere grazie Mattia grazie al pubblico è volata infatti appena hai detto dico ma perché che ore sono a posto molto bene e quindi vi dico questo leggete Harry Potter continuate continuate la vostra strada ad Hogwarts e va bene così così chiudiamo facciamo una puntata circolare non abbandonate mai i brand che vi hanno fatto sognare da piccoli assolutamente ma dando spazio anche ad altro però ci sono sempre nuove opere da apprezzare detto ciò alle 17 microfono aperto quindi non vi preoccupate se non avete fatto in tempo a farci le domande alle 17 sono da solo a vostra disposizione anche l'argomento principale non toglierà molto tempo quindi datici dentro domani alle 14 Matti Oski Show domani alle 17 TG Cinecomic grazie ancora per essere stati presenti e ci vediamo alla prossima diretta ciao ragazzuoli alla prossima alla prossima sempre di una bellezza travolgente ciao 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 ciao